Il pastore svizzero bianco è un cane ideale per le famiglie, un giocarellone come i vostri bambini, affettuoso con voi e con tutti i vostri familiari, è un cane molto equilibrato quindi, è un cane che vi potrà dare molte soddisfazioni. Non ha bisogno di tanto spazio come si pensa, perché il cane l'80% della sua vita la farà con voi, accanto a voi. L'importante è ricordarsi quelle due o tre volte di portarlo fuori, a girare, a conoscere altri suoi simili e a espletare tutte le sue funzioni. Per il resto, quello che posso dire, è un cane che vi potrà dare tantissime soddisfazioni e lo consiglio a tutti gli amanti dei cani.